Nati per leggere è una campagna nazionale innanzitutto che esiste da una dozzina d'anni ideata dall'associazione dei bibliotecari e da un'associazione di pediatri con lo scopo di diffondere la lettura a partire dai primi anni di vita. Vuol dire che si vogliono sensibilizzare i genitori a leggere i loro bambini, a usare i libri con i loro bambini fin da quando sono molto piccoli. Quante sono le biblioteche coinvolte quest'anno e quali iniziative proporranno in questo mese di novembre? Allora, diciamo che sul territorio bergamasco ci sono più di 200 biblioteche e chi più chi meno tutte durante l'anno si dimostrano, si rivolgono ai genitori, le invitano i genitori a frequentarle perché in tutte queste biblioteche trovano i libri perché se un genitore vuole svolgere questa pratica, non ha libri a casa, tra l'altro le librerie sono poco diffuse, evidentemente ci vogliono i posti dove trovare questi libri e le biblioteche sono appunto questi servizi, quindi più di 200 biblioteche. Poi adesso stiamo parlando di Nati per Leggere in Festa, il compleanno di questo progetto. Durante il compleanno tante biblioteche, sono quest'anno circa 100, propongo degli appuntamenti durante il mese di novembre di letture, laboratori, mostre. Ci sono anche, a sottolineare il discorso della festa, dei momenti delle merende e ci sono i gadget in regalo che abbiamo preparato come organizzazione. Giovanni Milesi, assessore provinciale alla cultura, quest'anno per Nati per Leggere, avete voluto porre attenzione anche al dialetto? Sì, oltre al sostegno usuale che dà Provinci Bergo, questa grande iniziativa coinvolge circa 10.000 famiglie, oltre 100 biblioteche, per un importante scopo che è quello dell'età prescolare dei bambini. Siccome in questa iniziativa si vuole raccomandare ai genitori di leggere, leggere ai bambini, tenerli in braccio e raccontare storie, favole, insieme all'organizzazione è nata l'idea anche di riportare alcune delle filastroche, delle storie della nostra tradizione bergamasca, in lingua bergamasca, quindi con le sonorità proprie del bergamasco, in questa lingua antica che ha questa caratteristica di essere molto espressiva. Le filastroche hanno dei suoni onomatopeici, richiamano magari i suoni diversi degli animali e in qualche modo raccontati in una lingua più intima, più familiare come è il bergamasco e che ci auguriamo che nelle famiglie in qualche modo saltuariamente venga proposta, pensiamo che sia un fattore aggiunto. Abbiamo appunto creato insieme agli istituti educativi una pubblicazione illustrata da Margaret Cross, quindi da una professionista dei libri per bambini, quindi sono delle bellissime illustrazioni ben colorate che ci auguriamo possano aglietare lo stare insieme tra i genitori e i bambini, i bambini piccoli. Questa pubblicazione verrà data in omaggio insieme ad altri omaggi che fa Giannati per leggere ai genitori che verranno a questi appuntamenti nelle biblioteche dove vengono presentati vari libri, l'importanza della lettura per i bambini, oltre ad essere aglietati con merende e piccoli spettacoli per i bambini. Qui devo dire che le biblioteche e i sistemi bibliotecari sono veramente bravi nel darsi da fare per creare queste occasioni importanti dentro le biblioteche, quindi sono un luogo del sapere e del leggere e dello stare insieme, in questa situazione vengono veramente a essere valorizzati entrambi.